Mozin man Bro Posso avere la tua attenzione? Eh Dove? Dove? Kisera che sta succedendo? Siamo chiusi Come ho fatto questa non vedemme tra l'altro? E come cazzo hai fatto? Ti ho fatto ammazzare? Oh mio Dio Ho detto e c'era uno Che abbiamo cazzeggiato mica l'ho capito Ahahahah No ma mi ha preso... No ma mi ha preso in testa altro che... Ma come in testa? L'ho preso in casco No sul visore Sei morto? No Lui si? Adesso si Però c'era un altro Che fai te ne vai? Stavamo a divertir... Non dirmi che sei rimasto qui da quando ti ho sparato... Un quarto d'ora fa... Non siete rimasti qui da quando ti ho sparato alle gambe un quarto d'ora fa? Giusto? Dimmi di no No Aspetta che... Era nata sotto la macchina Ma dov'è questa? Dov'è? Me lo so sentito prima al dietro Ok E' dentro il muro Ok ok Scusi... No 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 Che sei aggressivo? Ma che è in genere? Gesù Si ma questi non collaborano Non stanno collaborando Qua Oh per esempio questo io me lo sento No no non cadere non cadere No frate non ho capito la voce quando hai salutato Non si senta bene Oddio è morto Oh freggiamma Avrà toccato avrà Trova di un lavoro Non si pusha così Ma come t'ha pushato male? Non si pusha no No Può andare sopra Ma dove sono? Stanno sul tetto bro Sei morto? No no a posto Sono dentro eh Vieni solo eh Precisi Sì sì Sotto Ha! Cack W C'è C'è Qualcuno sta a fare legno Eccolo Quanto Dov'è? In fondo Era in fondo Comunque c'è legno accanto Sopravvivi Fatto Stai soffrendo tantissimo Perchè vieni Io non ci posso credere Posso avere la vostra attenzione Aia Boom Non ci vedo oggi Non ci vedo oggi Posso avere la vostra attenzione C'è lui ci ha provato a farsi che Allora Jamet Stavo dino stamattina Sopravvivi Mi hanno preso in testa E non mi hanno ucciso Io ho preso in testa lui invece E lo ho preso No 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 Ah sei vivo? Sì C'è uno per le scale Dov'è? C'è uno per le scale C'era uno per le scale Ci fu Ehi fu per le scale Non si gioca così Non si gioca così Non si gioca in questo modo Comunque è proprio scarsi È morto quello del tetto? Sì sì È morto tutti Aspetta c'è ancora qualcuno in giro Mo te spiego perchè non si sta fermi dopo che Hai piccato Lezione imparata? Spero di sì Sei morto? Lezione imparata? Spero di sì Sei morto? Lezione imparata Caricatore a 60 Stronza Che schifo Ehi boss Ehi boss Ne ho fatti tantissimi Quasi due in più Guarda C'hanno tutte le cosine Tantissimi Tantissimi Mamma mia Bro Uno l'ho fatto da dietro Ce n'è un altro però Me ne sono fatti due Me ne sono fatti due C'è questo sotto la commenta E' un altro Aspetta L'ho fatto Ho rubato il fucile Non posso ucciderlo perchè sennò si scadena l'inferno Guarda quel tizio che lotta quanto è grosso Sennò Oh Gesù Ti riporto Buon Natale a me Buon Natale a me Quella che collega le due stanze Trova di un lavoro Deciso? Uno si Oh! With the last bullet Did you see the head go? Did you see the fucking head go? Ma che player Ma che azione Che movimenti Che tattica Che bestia Io non ci riporto So grab Che tattica Che tattica Ma che me fa borta Zitto Se lo vedi non spara subito Hai urlato tu? No, sono russo io Hai ragione Ma che noi? Sdraiati e alzati E mettiti a cuore contro il muro Coglione 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 Che puttana Quarex Sei tu dentro? Sì Quarex uccidilo Sei morto o sei lì? Siamo entrambi vivi Quarex uccidilo Spara 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 Nehemi giudizia Quarex ce l'ho Quarex Dai Quarex spara stai in basso Aspetta gli devo togliere il fucile Non lo vedo Non lo vedo Dai è lì dentro Sei tu al camion? Sì 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 Ti ho tolto il fucile dell'amico Così non lo prendo e mi ammazzo Che puttana Quarex Ho capito ma non ho Io ti ricordo che sto sparando Cercando di spederti Ma non è una situazione sostenibile Lo capisci? E' ancora qui dentro Sì è ancora qui Quarex maledizione Non può Ti stai inseguendo? No sta lì dentro Lo deve uccidere da 50 metri Sei al camion da lui? Sì sull'altro Tu spara a chiunque Spara a lui Maledizione Vabbè non lo vedo più Sta lì dentro No è lì dentro Intanto mi shotta Una certa mi shotterà Dov'è? Ti ho detto che è uscito Che puttana Ah Sta arrivando Aspetta 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 No Grazie a Gesù Grazie a Gesù Cristo Ehi è arrivato questo Grazie signore Livello 3 Questo è rimasto traumatizzato A vita Qua c'è un altro Mi ha meccinotto Era l'altro No fuori Proprio fuori Fuori Questo ha fatto un altro F4 Non lo vedremo mai più L'hai fatto sta guazzote questa? Sì Grazie signore Adesso posso non giocare a Targo Per il prossimo anno Proprio Grazie per la visione Grazie per la visione